Numero 132 Marco Maiani ed Alessandro Podeschi Peggiò 106 Vengono da San Marino loro Vero? Prima gara Prima gara? No perché ho sentito loro ridere Non hanno riso È pericoloso quando fanno così Tu vai via ma io rimango Non ho paura Prima gara ma un applausetto glielo facciamo È vero che siamo in pochi E tutto il resto lo vediamo Nella prova spettacolo Però vi vogliamo qui domani sera Mi raccomando Che dobbiamo festeggiare Ok? Perfetto 3 secondi 2 secondi Un secondo solo La tabella Via 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 guarda sotto, guarda sotto, guarda sotto guarda sotto, guarda sotto guarda sotto, guarda sotto guarda sotto, guarda sotto, guarda sotto guarda sotto, guarda sotto guarda sotto, guarda sotto, guarda sotto guarda sotto, guarda sotto, guarda sotto guarda sotto E' un'altra parte, è un'altra parte. di mini class siamo qua grazie di essere stati con noi ciao ragazzi